La fortitudo basket agrigento domenica prossima a 14 ottobre gioca contro Viella. Si tratta della seconda giornata del campionato di Serie A2. Oggi nella sala stampa Micalizio del Palamoncada hanno presentato la gara l'allenatore Franco Ciani e il giocatore Edoardo Fontana. La vittoria l'abbiamo provato a raggiungere nella prima partita. Ci siamo riusciti, diciamo che sapevamo delle difficoltà della gara e quindi non davamo per scontato il fatto di poter ottenere un risultato positivo. Oggi più o meno affrontiamo la trasferta con lo stesso approccio. Certo non è un derby ma certo giochiamo contro una squadra che storicamente ha sempre fatto benissimo in queste ultime stagioni, che ha una filosofia, un sistema di gioco ben preciso e ha della qualità e dell'esperienza oltre al talento a livelli di prima fascia. Quindi una battaglia sicuramente sotto profilo sia tecnico che di mentalità, di atteggiamento, di ritmo. Quindi grandi difficoltà ma proprio per questo una partita interessante per testare la nostra giovane squadra, il nostro nuovo gruppo anche di fronte a questo tipo di difficoltà. Siamo abbastanza avanti, anche se non quanto avrei voluto in questo avvio di stagione perché il precampionato è stato un po' travagliato fra assenze, infortuni e altre problematiche che sicuramente ci hanno un po' rallentato, hanno frenato un po' l'inserimento dei nuovi e gli equilibri e le gerarchie all'interno della squadra. Però ci stiamo lavorando tanto, i ragazzi hanno grande disponibilità, facciamo un piccolo passo in avanti tutti i giorni e adesso chiaramente avremo questa seconda verifica ufficiale per capire se siamo in grado di giocare il nostro sistema, di portare sul campo il nostro sistema anche in trasferta, anche in una situazione ambientale e di abitudine diverse. Il fatto di essere una squadra giovane non ci vieta di pensare e di provare a fare qualcosa di importante e di inatteso, ma ci deve anche far tenere i piedi per terra perché ovviamente non abbiamo delle certezze consolidate in anni e anni di esperienza di questo campionato. Ci stiamo consolidando di giorno in giorno, di domenica in domenica, di settimana in settimana. Va poi tenuta in considerazione la formula del campionato, una formula impegnativa, difficile. Certo ci sono tre promozioni che fanno sperare tante squadre di poter arrivare in A1, ma io continuo a ricordare a tutti che ci sono cinque retrocessioni che portano alla serie B e che portano a una serie A2 che passerà l'anno prossimo da 32 a 28 squadre. Quindi la salvezza è esponenzialmente più difficile, per cui dobbiamo tenere i piedi per terra, lavorare per ottenerla e per garantire aggrigento questa A2 a 28 squadre anche per l'anno prossimo. Dopodiché se da lì, da quel momento, potremmo pensare e sperare di fare qualcosa in più, non ci tireremo sicuramente indietro. Un pronostico tenente di farlo per quest'anno? Ci chi vede tra i favoriti? Sicuramente tante nel nostro girone. Le due romane, Tortona, Siena, Scafati. Ci sono molte squadre di assoluto livello. Dall'altra parte, Treviso, Bologna, per citare le due piazze più importanti, due club più importanti. Ma Forlì è una squadra eccellente, secondo me. Quindi i candidati a quei famosi tre posti sono tantissimi. E credo che alla fine, in questo lotto di nomi, probabilmente le promosse le abbiamo azzeccate. La due ci ha insegnato che ci sarà sempre una grande delusione e ci sarà sempre una grande outsider. E quindi aspettiamo un po' di capire dalle prossime giornate chi saranno l'una e l'altra.